Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e fantastico video che sarà fatto più che altro per il nostro capitano Giorgio Vanni che sarà presente domani 14 settembre ad Ale Comics il nostro capitano sarà sul palco a cantare dalle ore 17 alle 18 e 30 mi raccomando per chi lo segue tantissimo per i veri fan non mancate e tutti noi del canale Delta Channel saremo presenti ad Ale Comics sia sabato che domenica saremo dal mattino fino a che non chiuda le 6 e le 7 e saranno domani e dopodomani mi raccomando ragazzi non mancate perché noi saremo tutti lì e vi cercheremo voi che siete vestiti da cosplay per fare il contest sia quello maschile che quello femminile il sabato ci troverete con queste magliette qua del nostro canale invece domenica saremo vestiti anche noi da cosplay però continueremo sempre per i contest sia maschile che femminile mi raccomando ragazzi siate numerosi non mancate ed ora che dirvi un saluto vi lascio a questo video qua del nostro capitano Giorgio Vanni e ci vedremo nella fiera di Ale Comics ciao ragazzi Giorgio Vanni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.